La diocesi di Chiavari è composta da 5 vicariati corrispondenti ad aree geografiche e costiere dell'entroterra, Rapallo e Santa Margherita Ligure, Chiavari e Lavagna, Sestri Levante e Val Petronio, Sturla e Graveglia, Val Fontana Buona. Il lavoro sinodale dei tavoli ha ulteriormente ampliato la ripartizione del territorio in 8 ambiti, alcuni corrispondenti al vicariato, altri alle grandi città costiere. In ciascuno degli ambiti individuati, per circa due anni dal convegno diocesano 2016 ad oggi, gruppi di laici, sacerdoti, animatori, catechisti, operatori della carità, si sono visti periodicamente riuniti in tavoli per favorire l'incontro di diverse esperienze e portare un contributo significativo all'azione evangelizzatrice della nostra chiesa particolare di Chiavari. È stata per noi una modalità di vivere quell'esperienza di sinodalità che Papa Francesco chiama il cammino che Dio si aspetta dalla chiesa nel terzo millennio. I tavoli erano riferiti, sono stati riferiti soprattutto ai cinque verbi del convegno di Firenze e dunque uscire, abitare, annunciare, educare e trasfigurare. Il lavoro ha avuto una radice comune in tutte le realtà, partendo da una pagina del Vangelo, la lettura della situazione, l'individuazione delle risorse e degli strumenti ed infine le indicazioni di scelte possibili. Al termine di questo percorso ciascun ambito ha prodotto un documento sottoposto al Vescovo il quale a sua volta dovrà tracciare una sintesi del lavoro svolto da un numero significativo di persone. Almeno nel primo anno sono state coinvolte oltre 630 persone nei vari ambiti pastorali della nostra diocesi. Ecco, questa esperienza è stata un'esperienza ricca e significativa. Le sintesi che i vari ambiti pastorali hanno prodotto e hanno consegnato lo dicono chiaramente.